Il mio mestiere è la tua nana e anche il mio. Eravamo a cantare storie. Sono più belli. Da estate giravamo tutta la Sicilia e tutti i paesi. Dobbiamo imparare a fare il cantare storie. Signore e signori, eccoci qua! E secondo te questo è un buon modo di fare il padre? Stiamo andando a vela! Adesso io e te abbiamo la nostra storia da raccontare. Ciao!